E allora si prosegue, si va avanti, abbiamo ancora uno, due, tre, quattro, cinque nomi da ascoltare, partiamo dall'undicesimo in gara, Federico Borluzzi, eccolo qua, l'anno scorso, secondo posto, ormai sei una B2E, hai fatto tutte le edizioni, sei un po' come un mobile, eh? Allora ti lasciamo preparare, ti chiediamo da dove vieni, ovviamente anche per te, quanti anni hai e cosa fai nella vita? Allora io ho 31 anni, faccio tante cose, ma quando ci interessano qui, possono essere che faccio il cantautore, compongo canzoni, mi esibisco spesso con la pizza di strada o su YouTube dove pubblico tutte le mie esibizioni in Italia o nel mondo, quindi vi invito a guardare un insieme a voi di te. Assolutamente, io poi invito tutti, coloro che vogliono rivedere anche qualche immagine della serata, io quando posso faccio qualche ripresa in diretta, se poi chiedete l'amicizia è Alex Francesco Simico su Facebook, in modo che poi potrebbero anche vedere i video dei ragazzi che questa sera si sono insibiti, cosa ci presenti caro Federico? Alla scorsa edizione ho presentato dei miei brani originali, oggi ho pensato di cambiare, quindi vi presento un brano che conoscete sicuramente, portato al successo da Louis Armstrong, Waddle Waddle Fru, Waddle Waddle Fru. Federico Bonuzzi! Alla scorsa edizione ho presentato dei miei brani originali, e scrivendo un'altra scorsa edizione ho presentato dei miei brani originali, come hai la scusa edizione ho presentato dei miei brani suoi presentato dei miei brani tutti i miei brani. Grazie a tutti 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 Buona camicia a tutti Grazie 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 a tutti Buongiorno